Si racconta che un tempo la figlia del capo del villaggio della tribù Ainu e un ragazzo di umili origini il cacciatore di cervi si innamorarono ma il loro matrimonio venne ostacolato dal padre di lei che non riteneva il giovane all'altezza della propria figlia i due giovani allora fuggirono insieme se ne andarono lontano e si stabilirono sulle rive del lago Acam dove vissero felici insieme a lungo due persone distinte oggi si sono unite in una sola famiglia nella quale ognuno di loro porterà qualcosa di sé ricevendo qualcosa dall'altro e come diceva un grande filosofo l'intero è più dalla somma delle parti perché in esso ci sono anche le relazioni noi tutti vi auguriamo un felice percorso insieme che la vostra vita continui ad essere una bellissima sfida quotidiana amandovi litigando facendo la pace ma sempre sostenendo via vicenda e che la forza dell'uno sia sempre la forza dell'altro vi auguriamo di conservare sempre nei vostri pensieri la meravigliosa commozione e l'emozione che avete vissuto oggi e che ci avete regalato auguro la risposta a tutti voi una splendida serata grazie